La mamma e le sorelle posero. Questo è quanto si legge tra i resti di una lapide probabilmente di una bimba defunta alla teneretà di 11 mesi, accanto ad un cassonetto dell'immondizia nei pressi di via Xiboli, tra frammenti di vetro, resti di materiale edile, frigoriferi abbandonati e frantumi di recipienti in Ethernet. Si tratta dell'ennesimo episodio di discarica a cielo aperto immortalato dalle nostre telecamere che si registra in città nel giro di pochi giorni. Questa volta però la nostra redazione ha chiesto l'intervento della polizia che si è tempestivamente recata sul posto per fare chiarezza su una vicenda permeata di mistero. A chi infatti apparteneva la lapide di un defunto la cui morte è avvenuta 49 anni fa? Chi ha disturbato il sonno eterno di questo angioletto il cui ricordo si trova accanto a rifiuti umidi e rifiuti speciali? Sono infatti sconosciuti i motivi per cui questa lapide si trova proprio lì come a volersene disfare, probabilmente perché precedentemente profanata per celebrare una messa nera o semplicemente perché la stessa conteneva del rame, il cosiddetto oro rosso, metallo ormai diventato più prezioso della memoria di un defunto. Per ciò che riguarda i rifiuti la polizia ha già provveduto a segnalare il luogo al comune per una pulizia completa, mentre invece la lapide del mistero è stata sequestrata dalle forze dell'ordine per accertarne la provenienza.